Il mio padre non ha mai fatto uso di marijuana in mia presenza, è vero che io non lo vedevo da più di un anno purtroppo, semplicemente dico che quello che hanno fatto se lo piangeranno un giorno con Dio, però prima di Dio c'è anche un'altra cosa, c'è la magistratura in Argentina che sono delle persone importanti.